Il ricordo di Iroso è universale, cioè voglio dire non è una questione più di Vittorio Veneto, neanche dell'Italia, è una questione del mondo perché da ogni parte del globo ci chiamano, ci scrivono e vedremo appunto anche di ricordarlo in qualche museo storico. Iroso se n'è andato una settimana fa lasciando un grande vuoto tra le pene nere vittoriesi, ma non solo. Ormai la sua storia è conosciuta anche al di fuori dei confini nazionali. In questi giorni, da quando si è saputo della sua morte, da più parti stanno arrivando dimostrazioni di affetto per l'ultimo mula alpino e tanti coloro che vogliono ricordarlo. È nato un puledro di un centro nazionale importantissimo e il bello della notizia è che ci hanno chiesto di poter dare il nome e battezzare questo puledro Iroso. Iroso adesso verrà cremato. Raccoglieremo le ceneri e faremo una cerimonia, senz'altro qui in Vittorio Veneto, per conservare le ceneri, per dare anche appunto visibilità a una cerimonia che sarà pubblica. La nostra idea al momento è quella, ma mi pare che sia condivisa, di conservarle presso il monumento alle pene nere a Sant'Andrea. Monumento che è costituito appunto da un mulo e da un alpino. Di Iroso resterà lo zoccolo con la matricola 212. Non è ancora stato deciso dove sarà conservato, ma una cosa al momento è certa, non sarà alla durata di Milano. Credo comunque che gli daremo una sede dignitosa, che sia proprio legata a quello che Iroso è stato, è e sarà per le truppe alpine, ma non solo. A Milano però Iroso ci sarà in un certo modo, e non solo nei ricordi delle penne nere. Pensiamo che sia giusto osservare una sorpresa a tutti e all'Italia integra, quantomeno sarà effettivamente un qualcosa che è appartenuto a Iroso.